Mi chiamo Valentina, sono di Roma, ho saputo di questa fiera perché un mio amico mi ha mandato una richiesta su Facebook tramite i vari eventi e mi sono subito interessata perché le cose riguardanti l'horror mi piacciono un casino, ne vado matta e quindi ho detto sì, devo venirci assolutamente Ciao, sono Lorenzo, io ho saputo di questa fiera perché la tizia qui accanto a me mi ha invitato gentilmente a unirmi a questa serata Ciao, sono Jessica, ho 16 anni, io invece sono venuta qui perché mia sorella mi ha detto che c'era questa cosa qui e facevano al Tevere La Casa degli Orrori è stata fantastica perché pensavo che non fosse così spaventosa quando in verità ho avuto molto paura forse perché è colpa mia ma dentro ci sono tantissimi effetti speciali, c'è il fumo, gli attori sono veramente bravi e secondo me sono anche capaci La guida è stata fantastica perché come è arrivata io sono scappata ad urlare, poi è successo un casino dietro perché io mi sentivo spingere Allora, io spingevo perché c'era questo tizio dietro che mi spingeva perché succedeva qualcosa alle nostre spalle ed era molto inquietante Io non è che spingevo esattamente lei, praticamente io mi sentivo sempre toccare dietro i fianchi, è una cosa che io ho sempre avuto paura Dentro questa casa io mi sono messo veramente paura, ero entrato tutto spavolto ma ti ho strillato e poco Gli ho sentiti tutti quanti gli urli, oltre ai miei ho sentito anche loro Io posso dire che la consiglio a tutti questa casa degli orrori perché veramente fa veramente paura Siamo di ventini tantissimo, viva il Bloody Lady Siamo di ventini tantissimo, viva il 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 Viva il